Ed eccoci ragazzi, nuovo capsule opening triplo, nuove miniature con tu be' Blazzi Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Blazzi l'indiano E tu Mirko oggi ti vuoi impersonare Ho salutato ma non mi avete sentito mi sa Eh no perché Blazzi è maleducato e ti copre Ti sono andato sopra Esatto, mi deve sovrastare Ciao ragazzi, abbiate pazienza Oggi sono un pochettino un po' più composto Piuttosto che Blazzi che sovrasta le persone Vabbè sei più professionale Invece è Blazzi che è entrato così Ciao a tutti ragazzi Mi rimangio tutto quello che ho detto Basta e dico tre Via Aspetta Giuseppe, ti rimangi quello che hai detto Evita perché ti vedo già bello Ingrassatello ultimamente Ma magari bro T'ho visto Io c'ho il problema opposto rispetto alle persone Non riesco a mettere peso, pensa Se vuoi so anche il motivo Però è meglio forse non dirlo No, no, no Quelle Blazzi Non ti confondere Comunque ragazzi Oggi come sapete Nuove miniature Puntiamo a top C'è sta un botto di miniature nuove Gianfra tu oggi Quante miniature nuove pensi di trovare? Mango Allora Io sto parlando Proprio con te Con te Che sei davanti Al monitor E che stai montando questo video No No Gianfra no No Gianfra Non di volgarità Solo per dispetto Edita Devi editare questi vidi Allora dirò una cosa anche io Taglio tutto eh Ti puzzano i piedi Vabbè ma questo Questo lo lascerà sicuramente Ma questo lo posso lasciare È un po' disgustoso Ma è complesso 3-2 fa 1 Via Vai Ragazzi Puntiamo al top Con topo Al top del topo Al top del topo Eh però Oggi Top del topo Io credo Ecco qua topo Eccolo qua Dimmi Troverai forse Un po' di Paiquan SR Può capitare Secondo te No Non può capire Perdonami Ma l'hai detto Di lasciare Un fottutissimo Like UR nuova UR nuova Freezer Grazie Ma che dici Sì fra 3 punti per me Grazie Arrivederci Ma veramente Ragazzi Sto trovando tutti Freezer Corpo perfetto UR Tutti Freezer e Vegeta Non l'ho mai visto Io fino ad ora Mai Che devo fare Vabbè Tu vuoi fare così Tu vuoi fare così Tu vuoi fare l'americano Americano Americano Giambra puoi contare Masinati in Italia 3 Meno 2 Via Ma il colmo Sai qual è che per copyright Mi blocca il video Perché hai cantato No È una cover È una cover Eee Paiquan UR Si Ma io non lo sento urlare Che dice Ma io ho capito Paiquan E' una Due nuove ur Nella stessa Capsula Vabbè Se vi Se vi interessa Io ho fatto un punto All'interno Ma mi avete sentito Regà No Ti taglia Ti taglia le parole Due nuove ur In una capsula Ciao Quella mi manda L'episodio è finito Arrivederci E grazie Ciao ciao Non gli credo Non può essere Non può essere Ragazzi ve lo giuro Su mia madre Ok No no ok Quando dice così Regà Sta con la mano in alto Così che fa Che fa la La sfera No Come la chiamatela No bellissimo Ragà Vi dico Ciao Per me Mi potere già Dall'episodio vinto Perché per me Questo Anzi facciamo una cosa Giuseppe lo carico io Sto episodio Aspetta 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 Bentornati No perché Scusami Via 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 No questo è mio Mi dispiace Vabbè Sì ma a parte Di scherzi Io credo che Cioè nel giro di un minuto Tu abbia trovato Tre nuove UR Di cui Due nella stessa capsula Penso che Giambra Ci possiamo ritirare Oh regà L'ho trovato un'altra volta 538 Ma non sono andato qua Regà Ma io ne ho trovato un altro Vabbè io vado Giuseppe Ma quando siete partiti Ma regà 538 È il gogetta nuovo Sì Ma sì Sì Regà Ma io ne ho trovati due Ma che stadi Ma quando Mono ho trovato un altro Dopo quello che hai trovato Poco fa Di nuovo Eh Eh Ma quanto stai Ma che ne do Sarò a 12 Ma regà Eccolo 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 Gogeta Gogeta super sien È bellissimo Oh mio dio È bellissimo Regà Non succede Oh mio dio Ma se trovo Top UR Regà Io prendo E vi giuro Stacco la rec Io stacco la rec Ti avviso È bellissimo Mi mancano solo Toppo e piccolo E ho finito Ho finito con Toppo e piccolo Giuseppe potresti smettere Di rosicare in silenzio E ci esponi Il fatto che tu stai rosicando Che non stai trovando niente Grazie Possiamo andare Guarda quanto figo è Ti è nel braccio sinistro alzato Sì esatto 3-2 Fa 1 Via Dai 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 Giuseppe dai Che mo' continuano gli schiaffi Dai dai Arrivano Arrivano Allora ragazzi Io se ricordate Nei primi video fatti Pensavo che la fortuna Con questo nuovo aggiornamento Fosse tornata a me Ma Dopo questo Dopo quello che è successo oggi Pur Mir Pur Gianfranco Ha trovato pure lui Gogeta Ma sai qual è il bello? Perché oltre al danno C'hai la beffa Giuseppe Perché Nel primo episodio La play E il gioco Ti ci hanno fatto crede Poi ti hanno dato Un'ammazzata Talmente tosta Negli episodi dopo Che fra tutte La ricorderai Forever 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 UR garantita Contate Vado io? Vai tu Quale volete L'SMR Quale volete Dietemi Fallo normale Lo voglio SMR Fammi sognare 3 2 1 Via Cioè ragazzi Voi dovete chiudere gli occhi Quando Gianfranco fa sta cosa Spero che abbiate messo volume a palla Vabbò Videl in bichini Ma vado a sacco In quel posto Videl in bichini Vabbò Ci sta Ci sta Ma come si fa? Gianfranco tu? Un Non è che io ci creda poi tantissimo Però Ma perché dovrei mentire? Tanto che ho perso già l'episodio contro Mirko Effettivamente ha senso Però vabbè Mirko conta tu Ma io voglio 3-2 fa 1 Via Vai Ragazzi Oggi Scrivete voi qualcosa Ragazzi Ma che dire Follettine Follettine Dovrei solo trovare almeno altre 4 R9 Sì certo E poi vuoi pure trovare un panettone sotto l'albero di Natale Vabbè Perché no? Perché no? Cioè ragazzi Io Non ho parole Oggi proprio è stata la disfatta più grande dei capsule opening Infatti oggi hai preso delle sberle Todale Mamma che sberle che ha preso oggi Giuseppe del videogiocatore Mamma Ma poi stiamo ancora Cioè altri 25 utilizzi ci abbiamo Hai capito? Qual è il problema? Non è che c'è alla fine dell'episodio Qua può continuare la mazzata Eh vediamo Vediamo 3-2 fa 1 Via 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 Perché tu mi porti particolarmente fortuna Ma io non lo so proprio Non lo so proprio Ma queste sono sberle dietro la testa Sì Ragazzi allora Ah già misera questo sempre serve Android 17 Machin Bu Ebbè quel paese Vados SR nuova Dai qua non mi escono più le nuove Guadu cioè io ho fatto i primi episodi Allora aspetta Sembrava la rivoluzione Devo riattivare un attimo le hack No Che? No 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 Cosa? No niente Che hai detto? Che ha detto? Gianfra che ha detto? Ho capito Oh sì Ho seguito hack No No Fammi attivare Disattivare le hack Che hai detto? No 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 Avete capito malissimo Mirko Fammi salutà Un mio amicac Ma che significa? Ma che significa? Stavo mandando un messaggio Questo ho detto Via via nel frattempo Però questa cosa che hai detto Mo Non è che mi puzza Ma che ti puzza lo sapevamo Effettivamente è stata Da due video a trovare il mondo Scusatemi Le ho riattivate PiQ1 UR E si va Altri tre punti VAMOS Ma questo che sta dicendo? Merrà E vai così Ma ragazzi Ma vi sto dando Oggi Oggi vi prendete il merluzzo Il merluzzo In scatola Oggi Vi prendete il Merluzzo Oh devo liberare Minature Via via No devo liberare Minature fra Devo liberare Perché veramente C'ho gli slot pieni Eh sono partito Andate andate Tranquilli Noi andiamo Tanto lasciamo lì indietro Tanto bro Ha vinto Tanto ragazzi Per me siete obsoleti Ragazzi Oggi mi vedete parlare poco Perché c'è io Una roba del genere Con così tante nuove UR Nello stesso video Trovate dalla stessa persona Il mio record è stato superato Perché io c'avevo sti record Ma ormai Mirko oggi si è superato Sì bravo Ah Pai Q1SR Trovato per la prima volta Io ne ho appena trovati due In una multi Quindi fai te Giuseppe Sono partito eh Vai vai Vediamo che trovi Ti aspettiamo Ma vediamo Signori Vegeta Super Saiyan Blue È evoluto Un'altra volta No vabbè No raga No fermi Cioè fermatevi No ragazzi Non è possibile Fermatemi Raga fermatemi Ma che c***o succede No 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 Ma tu le hack le hai attivate veramente Però non è possibile Ragazzi ho trovato pure Majub Majub 447 UR O hai attivato le hack O le hack sei tu Cioè come ti posso spiegare Sei tu l'hack del gioco No aspetta La cop sei tu La hack so io È diverso Vabbè Giambra conta un poco va 3 Si ma Meno 2 Fa 1 Via Ma perché non ve le risparmiate ste medaglie e la smettete di Vado avanti da solo Allora la regola è fare tendenzialmente due giri completi Però Io il toppone lo vorrei Raga scusatemi Che flower Scusatemi se mi intromesso Ma sì Qualche punticino in più Ma che ce ne vogliamo ce la no Sì 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 Un punticino in più Io me lo faccio volentieri Grazie Io non dico piccolo Ma il toppone lo vorrei Dai caccia No ma tu obiettivamente ce l'hai piccolo No Non ce l'hai piccolo E quello diceva No ma non ce l'ho Ultima capsula Via Allora scusa Giambra Ma io Sapevo che tu ce l'hai piccolo Poi Se poi non ce l'hai per niente Cavoli tuoi Cioè nel senso Ma è proprio Mamma È clamorosi No no È stato Mirko mi dissocio Assolutamente Pessimi Pessimi A dir poco pessimi Tutti e duri No no C'è meglio che c'entro Ma ora che Siete voi che avete visto Della malizia eh Eh Io ho detto solo Tu ce l'hai piccolo Lo sapevo che tu ce l'hai piccolo Poi Oh Lungi da me Hai capito male Giambra Allora ragazzi Siamo alla fine Chi trova La guerra Vince Chi trova la wireline Dovina vince Io dico Vegeta Super Saiyan Blue Evoluto Nuovo Mirko Io dico Ho attivato le hack di nuovo Oh Posso andare io? Certo Dici Giambra Dici PyQNUR Mirko tu? Vegeta Super Saiyan Blue Evoluto Eh no L'ho già scelto io E lo scelgo pure io Via Vai Perché è quella che Sto trovando Per i più di tutti Quindi Eh ormai No vabbò Fa niente E' chiaro che fa niente C'ha 48 punti E' normale che dici Non fa niente Vados del 1980 Gianfran Mettiamo le nostre sconfitte Mirko Complimenti Io non posso di più nulla Grazie ragazzi Grazie Ma penso che io vi abbia sfondati abbastanza Per avere punti Per poter vincere Almeno tre episodi di fila Che dire amici miei Che dire Ma mi rifarò Mi rifarò In un prossimo video Eren Yega Alla prossima Eren Yega Ciao ragazzi Ciao Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao